L'unico politico a sfidare apertamente la mafia nigeriana, ecco Roberto Fiore, a Milano ha annunciato pubblicamente un suo comizio a Castelvolturno. Ma la mafia nigeriana è quella che in questi giorni ha ucciso le nostre figlie, si sta impossessando di veri e propri territori. Castelvolturno, ebbene io domenica prossima sarò a Castelvolturno e quello è l'epicentro sia della mafia nigeriana che della mafia italiana. E Forza Nuova è l'unico movimento che ha il coraggio di andare in queste terre proibite che sono in mano al nemico. Forza Nuova è l'unico internazionale! Come Forza Nuova la settimana successiva sarà macerata e io andrò nell'ultima piazza dove passò Pamela prima di essere rapita, uccisa e massacrata e metterò una nuova insegna a quella piazza. Voglio vedere chi mi ferma, voglio vedere chi ha il coraggio di alzare le mani e bloccare quello che è un atto di giustizia, forse non legale, forse dovevamo passare attraverso il Consiglio Comunale, ma facciano quello che vogliono, perché noi abbiamo capito perfettamente che oramai quella città è retta da un connubio che tocca le stanze della giustizia, che tocca le stanze delle autorità e permette a quel fenomeno, quello della mafia nigeriana, di spacciare, di sezionare le proprie donne, di prendere gli organi da quelle donne, di organizzare la prostituzione e di distruggere il nostro tessuto sociale. Che cosa farà Forza Nuova una volta entrata a Castelvolturno, una città dove non entra nemmeno la polizia, ecco in sintesi la linea politica, i sogni, le canzoni, gli slogan di questa organizzazione. Figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fredda, figli di un treno che parte, che non ci aspetta, figli della notte siamo, senza una foto sopra il passaporto, che ci aiuta quando navighiamo, su una nave in mare aperto, figli di una frontiera, da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci farà. Sono il timore di Milano per dire solo una cosa, che Portolò lo c'è ed è pronta dalla guerra all'immigrazione, alle banche, a noi, 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 forza Nuova una volta nazionale. Siamo, siamo prima linea, avanguardisti, diciamo quello che dicono tutti oggi, lo diciamo da vent'anni, che oggi tutti dicono, ma che oggi non tutti fanno o dicono di voler fare e allora Forza Nuova a questo serve, a dare l'esempio, a lanciare l'idea, ad essere in prima linea con l'idea, con quello che fa nelle strade, nelle piazze, al di là di tutto, al di là della politica, del Parlamento, dei media, dei soldi, dell'Europa, questo è il nostro esempio, che oggi portiamo a Milano, che abbiamo portato questa settimana in tutte le piazze d'Italia, questo è l'esempio Portolò Vista, che rimane uguale, i ten here challenge di Forza Nuova, non esistono, perché noi siamo gli stessi di dieci anni fa, mentre qualcun altro si accomoda nella famosa area, noi sappiamo quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare e lo sapremo anche tra dieci anni, fino a che questo sistema non si ribalterà, fino a che il popolo non aprirà gli occhi e non si farà drogare da qualche politico di turno, vedremo come andrà a finire, vedremo come andrà a finire con questo governo, vedremo le prossime elezioni, vedremo con la Francia un metro di distanza, ma noi saremo sempre gli stessi, non cambieremo mai, lanceremo sempre il sasso, lanceremo sempre la lancia oltre tutti quanti e se gli altri si spostano cento metri avanti, noi dobbiamo spostarsi altri cento metri avanti, perché questa è Forza Nuova, Forza Nuova all'Ordio nazionale! Perché adesso, dopo i girei gialli in Francia, i girei azzurri del signor Silvio Berlusconi, non ci sarà più nulla se non la rivoluzione scendere in strada e far sentire la nostra voce! Forza Nuova, Orgoglio nazionale! Forza Nuova, Orgoglio nazionale! E allora Forza Nuova è protagonista sempre di un passaggio in più, di un passaggio avanti, che oggi è il passaggio che va dal populismo, di internet, dei tweet di Salvini, dei provvedimenti che non si saprà che fine faranno, dell'Europa delle banche, alla quale gli hanno fatto un timido sgambetto, invece di mandarli a fare il culo e passare dal populismo a qualcosa di più importante, a qualcosa che vediamo oltre Alpe, ai girei gialli francesi! Per questo Forza nuovo rimarrà sempre libera e non morirà mai! Quando questo ragazzino di 14 anni mi ha detto inizia una nuova storia, io non gli ho risposto niente perché non sapevo cosa rispondergli, io che ho sempre la risposta pronta, come dicono mogli, poliziotti, datori di lavoro, con lui non sapevo cosa rispondergli, ho preso sulla mia bella macchinina, sono andato a casa e quando sono entrato in casa mi è scesa una lacrima perché ho pensato che l'esempio che noi riusciamo a dare ai militanti, ai giovani, a noi stessi è il più bell'insegnamento che si può dare. Perché da noi devono prendere esempio tutti, devono prendere esempio le nostre idee, sempre! E noi saremo sempre un passo davanti a loro, militanti, nazionali, rivoluzionari e liberi, liberi da tutto e da tutti, dai medi e dai soldi, questo noi siamo ed è per questo che qualcuno ci vuole sempre schiacciare, ma non ce la farà mai perché il popolo legge, legge e vide, lo vede anche attraverso un governo della Lega, ma vede quello che viene detto e chi l'ha detto per primo e noi questo siamo, avanguardia, quello che abbiamo sempre sognato di essere, sempre quello che tutta la nostra area, la nostra area ha sempre sognato di essere, ma che solo noi sappiamo oggi resistere, sappiamo oggi continuare con la resistenza elettrica, contro la seduzione elettrica, per la sovranità monetaria, per la famiglia naturale, gli otto punti di Forza Nuova sono datati in 1997, nel 1997 la Lega Norda era antifascista, antimeridionalista, benettista, lombarda, guardate i passaggi che hanno fatto gli altri ad andare a incontrare il consenso elettorale, no, noi stiamo sulle posizioni limpide e pure dell'inizio e ci staremo per sempre perché in Italia serve un esempio, serve un esempio di prima linea e quello sempre di prima linea si chiama Forza Nuova! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Orgoglio nazionale! Forza Nuova! Ebbene, io ho l'onore questa sera di confermare che la lotta iniziata oramai 22 anni fa prosegue prosegue con più forza, con più determinazione, anche perché è evidente, come è stato detto prima, che le nostre idee, un tempo difficili da digerire, un tempo difficili da capire, oggi sono nel cuore dei migliori. Perché è il momento in cui il sistema delle grandi mafie, il sistema della politica corrotta sta effettivamente crollando. L'81% contro l'accoglienza, il che non significa essere diventati cattivi, come qualcuno sta raccontando, significa aver capito che c'è stato un enorme inganno che è stato favorito dalle cancellerie antitaliane di Mezzomondo, un enorme inganno che ha permesso a centinaia di migliaia di persone di entrare negli ultimi anni sotto l'idea che fossero rifugiati politici. ebbene se oggi gli italiani dicono siamo contro l'accoglienza è perché hanno capito che l'unico modo per amare la patria, per essere cattolici, per avere un concetto di giustizia vero e reale è essere contro l'immigrazione, contro l'invasione e a favore del nostro popolo, della nostra gente, delle nostre famiglie che continuano a soffrire. Milano, cristiana, ma musulmana! Infatrio, 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 infatrio! Siamo Milano, siamo Forza Nuova, siamo i più belli, Forza! Nuova Orgoglio Nazionale, Forza Nuova Orgoglio Nazionale! L'Italia, gli italiani, Europa, gli europei! Foglia di un inno al sole e di una terra che non ci vuole, di una ferita che ci fa male tutto a fondo del cuore. Figli della luna siamo col cappello calato sul viso ed il sonno calato sugli occhi, ci addormenta e ci strappa un sorriso. Figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa vai e ci si ferma accanto. Figli delle stelle siamo con due occhi che non credono a niente, che ci aiutano quando ci troviamo tra le facce dell'altra gente. Figli di una bufera, figli di un temporale, che tutta gli è prova, che tutta gli è spera. Abbiamo i figli venuti male, abbiamo i figli di una bufera, figli di una luce accesa. Sovranità monetaria, vale a dire che l'Italia possa stampare denaro e non debba chiedere l'elemosina alla BCE, significa istituire il diritto alla cosa, il diritto alla vita sin dal concepimento, quindi iniziare step by step, ma sicuramente iniziare l'abrogazione della 194 e eliminare dalle scuole tutti gli assurdi miscugli di educazione gender pro-gay, significa fare una vera e propria rivoluzione che collochi oltretutto l'Italia al centro del Mediterraneo con una politica forte europea che non sia andare a correre umilmente di fronte alle cancellerie israeliane o americane. Questo significa fare la rivoluzione, non fermarsi al populismo, andare verso la rivoluzione. Noi ci presenteremo alle europee e sicuramente daremo una manifestazione importante alle nostre politiche perché noi abbiamo avuto sempre una forte attrazione per quella che è l'Europa, le politiche europee. Abbiamo fondato molte delle nostre attività, io soprattutto sono Presidente di un partito europeo, su quella che è un'alternativa europea che oggi sembra oltretutto, sempre anche lì attraverso il populismo, iniziare a manifestarsi. Io penso che, come tutti sanno, il Parlamento europeo cambierà profondamente a fine maggio e noi sicuramente come forze radicali nazional-rivoluzionali saremo presenti. Io ho un profilo molto europeo, sono stato nel Parlamento europeo, sono il primo politico in Europa, forse contemporanea a Berlusconi che è andato in Russia e ha aperto un ragionamento, un discorso con la Russia. Sono andato cinque volte in Siria, sono stato ricevuto dal Presidente del Libano alcuni mesi fa in visita ufficiale. Il mio ruolo è quasi più internazionale che italiano, quindi a me piace fare politica in Europa, per l'Europa e soprattutto mi interessa molto il contesto medio orientale che forse tanti non capiscono e è fondamentale anche qui per l'Italia. Ci vuole dire con quale lista? Farà alleanze? Faremo una lista sicuramente con chi in questo momento è più difficile, ma ci sono in corso tutta una serie di colloqui. Noi abbiamo un'alleanza europea con slovacchi, greci, lempe di tedesco, di spagnoli. Abbiamo un'alleanza non mai cementata dagli anni. Qui in Italia sicuramente ci sono delle forze che si stanno avvicinando a noi, ma contiamo in questo momento soprattutto sul popolo, sulle sacche di povertà che continuano ad esserci in Italia, sui quartieri popolari, soprattutto su quelle zone che la sinistra ha abbandonato. Ci sono enormi spazi in quei territori del sud, del centro e del nord dove prima sventolava la bandiera rossa, ora sventolerà altri colori. Lei saprà che l'anno scorso ci fu già l'alleanza con la fiamma tricolore. Oggi ci sono in corso dei colloqui con forze politiche diciamo della destra radicale oppure un po' diciamo del populismo scontento che in questo momento c'è Oggi i suoi militanti gridavano contro il populismo. Che cosa significa? Il passaggio è quello che ho detto prima, il passaggio da una idea diffusa di alternativa al sistema a qualche cosa di più concreto, vale a dire le politiche di cui hanno parlato ad esempio il ministro della famiglia vanno applicate. Noi vogliamo una politica come in Ungheria dove con tre figli, la madre ha 600 euro al mese, la famiglia riceve un prestito a fondo perduto di 30.000 euro e un pezzo di terra. Ecco quando queste cose accadranno in Italia noi potremmo veramente iniziare a dire che il governo funziona, ma non sta accadendo come non ci sono le espulsioni in questo momento dal territorio delle centinaia di migliaia di africani che sono qui senza nessun titolo e infine c'è un esplodere in questo momento della mafia criminale nigeriana e nessuno sembra se ne accorge, soprattutto i magistrati. Ma vorrebbe dire al sindaco Sala che il 2 marzo prossimo organizzerà una nuova marcia di migranti? Ma noi sicuramente siamo in perenne contestazione verso una politica suicida fatta soprattutto dalle amministrazioni di sinistra, ma in realtà mi spiace dire anche dal centrodestra. Adesso bisogna vedere se questo governo farà qualcosa di più. C'è stato qualcosa di più rispetto ai confini, rispetto alle ONG, non mi sembra di vedere nulla rispetto all'espulsione di immigrati che non hanno nessun titolo più in Italia. Ma rispetto al problema della mafia nigeriana voi farete qualcosa? Guardi, noi siamo assolutamente sul pezzo sia sulla questione di macerata, sia su Roma dove desirei stato ucciso a San Lorenzo sul recente omicidio molto oscuro e inquietante avvenuto a Torino. Io farò un comizio domenica prossima il 27 gennaio a Castelvolturno che è la base della mafia nigeriana e la settimana dopo sarò a Macerata e annuncio anche che sto scrivendo al Ministro della Giustizia perché ci sia immediatamente un'ispezione dalla procura di Macerata dove nonostante le evidence e le prove siano eclatanti, evidenti, i magistrati non sembrano di capire che stanno sedendo su una polveriera. Ho capito bene, quindi farete una manifestazione a Castelvolturno. Noi facciamo un comizio domenica prossima, domenica sera a Castelvolturno nella piazza principale. Fiore durante il suo comizio ha indicato i servizi segreti francesi come i maggiori responsabili dell'invio dei migliaia di disperati sui barconi verso l'Italia. Quando scoppiò la guerra in Siria, quel numero impressionante di siriani che poi si scoprì non essere siriani, come abbiamo visto improvvisamente due anni, due anni e mezzo fa dall'Africa occidentale passare attraverso l'Africa ex francese, quindi passare sotto l'occhio attento dei servizi segreti francesi e occidentali passare centinaia di migliaia di esponenti della mafia nigeriana. Figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fretta, figli di un treno che parte che non ci aspetta, figli della notte siamo senza una foto sopra il passaporto che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto, figli di una frontiera da passare solo quando... Che cosa succederà domenica prossima a Castelvolturno? La mafia nigeriana reagirà? Figli della strada siamo Che ci porta dove vuole il vento Che ci aiuta quando ci perdiamo Il nostro senso d'orientamento Il nostro senso d'Antoni Grazie a tutti